buongiorno allora oggi ospiti d'onore qui con me in friuli due forestieri dalla dalla lombardia siamo sull'alto piano del montasio scorterò i miei due amici qua fino al bivacco luca ue rick loro si fermano a dormire io purtroppo non posso quindi diciamo approfittato comunque per farvi un giretto fino al bivacco visto che sono se sono stato sette anni fa l'ultima volta insomma essendo un giretto che mi faccio molto volentieri siamo partiti come al solito dai piani del montasio giro classico saliremo verso la forca di terra rossa poi devieremo fare un pezzettino di ceria merlone poi io tornerò indietro praticamente per la stessa strada allora oggi ho deciso fare qualcosa di diverso facciamo un po di vlogging anche perché a spiegarti magari spiegarti i nomi non tanto ma farti vedere il giro ci penserà il buon matteo con il suo video per cui poi ricordati di andare sotto in descrizione dove troverai il link al giro giro di oggi almeno quello che farò in parte allora tanto per capire un po magari anche chi non è di zona o chi vuole rifare questo giro la nostra macchina le nostre macchine sono lì abbiamo fatto la strada fino al rifugio brazzà che è qui poi il sentiero sale per i pascoli dell'altopiano poi arrivati sotto qui le bancate calcare del gruppo montasio il sentiero risale attraverso queste chiamiamole cenge erbose insomma attraverso i punti deboli della catena e si sale a zig zag adesso praticamente andremo verso la forca di terra rossa che poi è uno dei classici giri che si fanno qui in zona si parte dall'altopiano e si va su un forca di terra rossa splendido panorama tanti stambecchi giro facile adatto a tutti magari solo l'ultima parte è un po più difficile ma un sentiero da escursionisti poi da questa parte invece abbiamo continua la catena il montasio purtroppo è finito un po sotto le nuvole e poi c'è tutta la catena che continua con i courti sons monte zabus e poi laggiù in fondo verso il cimone di montasio con tutto l'altopiano laggiù malga montasio formaggi molto buoni tutto l'altopiano e lo spettacolo qua davanti dell'altopiano del canin for and al mousse con il canin anche lui un po sotto le nubi in un'oretta e mezza siamo arrivati al bivio qua dietro alle mie spalle si sale verso cima di terra rossa mentre noi proseguiremo verso il ceria merlone come è andata fin qua bene ma anche commenti positivi sul panorama e il sentiero purtroppo si sta un po annuvolando roba di umidità e quindi c'è un po di sole un po di nuvola tra l'altro adesso saliremo un po di più speriamo finora siamo rimasti fuori dall'umido anche qui le altre cime sono lì lì ma è la situazione abbastanza dinamica quindi dai alla fine dovremmo farcela senza troppi problemi speriamo ora pausetta e poi ricominciamo siamo appena arrivati a forca di steis da qui inizia il tratto attrezzato di ceria merlone fino qui praticamente è un sentiero da escursionisti esperti è un po esposto ma è sentiero da adesso beh c'è un po di nebbia qui dietro alle mie spalle ci infiliamo in un cannalino iniziamo a risalire per le varie balze rocciose già verso la la salita per la cima di terra rossa e anche per la forcella abbiamo iniziato a trovare gli abitanti qui di queste guglie qui dietro di me sto inquadrando eccolo la qui col piccolino da questa parte almeno per la mia esperienza e tutte le volte che sono venuto qui forca di terra rossa o anche verso il bivacco ci sono se ne vedono tanti di stambechi però sono tutte femmine o ci sono dei maschi ma sono i maschi dei primi due anni quelli che stanno ancora con le femmine per vedere gli individui adulti maschi quelli con le corna belle importanti i posti migliori sono dopo il bivacco il lucaueric lungo il ceria merlone verso il monte crani edul altrimenti bisogna andare dall'altra parte verso il cimone di montasio lì ci sono lì stando i maschi e si vedono belle bestie con le belle importanti e siamo arrivati il bivacco lucaueric ma insomma lo trovo bene come l'ultima volta hanno fatto delle aggiunte ci sono qualche quadretto bandierine sono un sacco di generi alimentari è sempre tenuto alla grande qui la famiglia di luca ma poi anche i volontari che vengono su lo tengono e alla fine anche le persone che lo frequentano insomma è sempre viene sempre mantenuto bene se c'è qualche problema viene subito aggiustato davvero insomma si sono super bravi anche perché insomma per arrivare fin qui non è facile è vero che c'è l'elicottero ma spesso i volontari vengono su a piedi come abbiamo fatto noi purtroppo la situazione meteo è questa gran fumata ogni tanto si apre qualcosina o verso il canin siamo riusciti a vederci qua sotto se la nevea però da sta parte la situazione è questa mentre verso nord è un po più no adesso no si è chiuso anche da quella parte dicevo verso nord invece è un po più un po più aperto qua ci sono anche due amici ciao amici e si vede molto bene la valshizer adesso quale si è chiuso anche qui c'era bello alloio fuarte una boys però sì la situazione abbastanza dinamica il meteo cambia spesso io adesso mi fermerò qui mezz'oretta mezzogiorno mi mangia il panino e poi riparto mettono per il pomeriggio un po di pioggia un po di temporali bene si va di panino con un po di san daniele dentro sì insomma adesso sono passati altri dieci minuti il tempo un po così continua con le nuvole che vanno e vengono e adesso mi mangio il paninetto poi saluto i due e riparto buon appetito allora è giunto il momento di ripartire almeno per me loro due si fermano per la notte un po l'invidia però ho un impegno purtroppo non posso fermarmi e allora adesso si insomma mangiato il panino ci siamo scambiati un po due due informazioni per anche cosa faranno domani in base al tempo se proseguono sul ceremerlone oppure tornano indietro dalla stessa parte a fare i loro domani mattina col meteo se la giocano deciderà il meteo alla fine bene allora dai anche se solo fin qui è stato un piacere accompagnarvi e buon dai spero che insomma sarà di sicuro una bella esperienza si 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 sicuro sicuro buona discesa allora riccardo ciao 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 in mezz'ora circa sono tornato a forca di steis ci sono stati un due tuoni zona canin probabilmente sta già piovendo ma ormai sono abbastanza sicuro adesso avrò immagino un'oretta un'oretta e mezza per scendere però praticamente inizio a perdere quota abbastanza velocemente ormai sono tornato sul sentiero e anche se dovesse iniziare a piovere ho il guscio insomma sono attrezzato il cambio giù in macchina ormai il pericolo credo di averlo passato certo se arriva il mega temporale sarei comunque un po' esposto però diciamo che il pezzo più rischioso in caso di temporale ormai me lo sono lasciato alle spalle come avevo visto da foto o altri video effettivamente il rispetto a quando avevo fatto questo tratto di sentiero i cavi i tratti attrezzati sono aumentati ha fatto un buon lavoro anche perché hanno cambiato tutti i cavi c'è tutta la tutti i cavi sono nuovi fitoni nuovi è molto più attrezzata rispetto a prima certi tratti per me sono per me anche troppo però d'altronde è anche giusto garantire o cercare almeno di garantire un certo grado di sicurezza e poi se uno come adesso io che dovevo ridiscendere abbastanza velocemente per insomma perché sta cambiando il tempo ovviamente avere un cavo e tenersi al cavo praticamente piantare i piedi e scendere è molto più veloce rispetto a disarrampicare quindi insomma in definitiva è sempre un sentiero attrezzato c'è sempre un certo grado di difficoltà però adesso è in sicurezza e insomma una persona che non ha grossi problemi fa su commentavo con matteo che la normale al civetta è molto peggio di questo pur essendo una normale in questo momento si sta scatenando un bel temporale proprio qui dietro al canin probabilmente qua dietro in valresia zona monteguarda anche zona vicino a musi la zona più piovosa d'europa dice questo bel temporale bello a lungo prosegue anche in slovenia e la si sta scatenando il problema è se quel temporale scavalla ma al momento resta la è bene così sono arrivato a quota circa 1850 ed è pieno di stambecchi sono ce n'è tantissimi sono principalmente femmine con piccoli adesso c'era un maschio qua davanti e l'ho perso era giovane non aveva aveva ancora sì si vedeva non era ancora proprio adulto però era un maschio il primo che ho visto oggi ma se non veramente sono stati una ventina e sono tutti qui probabilmente sono scesi qui non è che ci sia proprio bosco però inizia inizia c'è un po di bosco sparso qualche arbusto probabilmente si spingono qui per il temporale immagino in quanto ne ho trovati ancora qualcuno su in quota però pochissimi e poi man mano che mi spingevo verso il basso e più ne ho visti tra l'altro qui ci sono anche dei piccoli anfratti tipo questo qui quindi probabilmente si si abbassano e poi se mai arriva al temporale lo superano qui tra gli alberi e vicino alle rocce immagino però non sono un etologo e non conosco bene il comportamento di questi animali allora i due compagneros sono lassù e adesso io lo vedo il bivacco da qua e non c'è più neanche una nuvola quindi si stanno godendo lo spettacolo del temporale sul canin che pian pianino sta sfondando è passata un'oretta circa no un po di meno un 50 minuti da quando era forca di steis e adesso pian pianino il temporale sta entrando soprattutto da con caprevalla sta entrando qua dentro e per cui immagino adesso pian pianino si aprirà strada qui sull'altopiano del montasio fino a sbattere contro il montasio era appunto il bivarco werk io ormai per fortuna sono arrivato adesso gli ultimi metri qui sulla sulla strada adesso per me lo sentiero messo sulla strada che collega il parcheggio al rifugio brazzà per cui dovrei essere salvo veramente sono dieci minuti e spero proprio di farcela per cui devo dire grazie al canin che ha mantenuto il temporale lì dietro però accolgo questo fatto per sì va bene sarà stato anche un po fortunato perché il temporale si è fermato lì non si è formato direttamente qua però avevo pianificato il giro lo sapevamo che il tempo sarebbe peggiorato siamo partiti presto perché alle otto eravamo già in marcia i due si sono fermati su dormiranno sul bivacco e domani torneranno giù quando ci sarà un'altra finestra di bel tempo io avevo fatto i conti sapevo che mezzogiorno e mezzo massimo una meno un quarto dovevo ripartire perché dovevo essere giù per le adesso sono le due un quarto io mi ero dato un limite delle due e mezza di tornare alla macchina perché le previsioni l'avevano detto previsioni regionali dove c'è un bollettino viene redatta da dei previsori che conoscono la regione quindi danno informazioni molto precise avevano detto primo pomeriggio temporali difatti c'è stato ovviamente con la zona lì è particolarmente soggetta ai temporali per cui si sapeva potevano arrivare anche un po prima però alla fine è andata tutto come doveva andare perché sicuramente avuto un po di fortuna ma ho anche pianificato l'uscita quindi questa è l'importanza nel pianificare le escursioni soprattutto se si va in alta montagna in tratti un po più complessi perché se mi becco il temporale se becco la pioggia nell'ultima parte di sentiero vabbè chiaro il temporale non è mai simpatico ma comunque gestibile se me lo prendo su incresta inizia essere davvero pericoloso io sono arrivato ti ricordo di guardare sotto in descrizione dove ti lascio il link del video di matteo dove c'è la salita che abbiamo fatto assieme e poi quello che farà sulla giornata di domani in base al tempo c'è avevo già fatto un video ti lascio anche quello di quando ero stato al bivarco weric la prima volta e poi avevo fatto anche il ceri a merlone è un video un po vecchio ha un altro stile rispetto a quella i video agli ultimi video che faccio però è bellino se tu vuoi fare un'idea sul giro te la può dare quindi io ti ringrazio per avermi seguito anche in questa avventura e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a presto grazie ancora grazie a tutti